Sei ulteriori persone denunciate, tra Pescara e Popoli, per aver ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne requisiti. Non si ferma la battaglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale contro chi percepisce indebitamente il sussidio. Tramite l'analisi di intelligence, incrociando i dati dell'Inps, i militari hanno individuato chi, all'atto della domanda per il reddito, non aveva le carte in regola per la residenza, chi si è macchiato di alcuni precedenti penali e chi non ha certificato che uno dei familiari dello stesso nucleo è sottoposto a misure cautelari. Sono molti infatti i cavilli per far saltare o ridurre il reddito di cittadinanza, la misura di welfare introdotta dai 5 Stelle per contrastare la povertà. Mediamente, coloro giudicati idonei, percepiscono meno di 600 euro al mese. Di assegno mensile in assegno mensile, la somma indebitamente elargita, ammonterebbe a quasi 50.000 euro. I sei scoperti dalla Guardia di Finanza sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver dichiarato il falso o per aver omesso alcune informazioni, così da ricevere il sussidio per un anno e mezzo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Fino ad oggi, quando è stato richiesto il sequestro preventivo e l'immediata revoca del beneficio. Le indagini contro chi non ha tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza rientrano nell'operazione della Guardia di Finanza denominata, senza mezzi termini, parassita. La mega indagine, già avviata da mesi, ha dichiarato il comandante Antonio Caputo, proseguirà senza sosta su tutto il territorio della provincia di Pescara, senza nessuna zona d'ombra.